Sono sicuro che di questo video mi pentirò tantissimo Ragazzi io questo video non lo volevo fare E saluto ragazzi bentornati finalmente in questo nuovo vlog Quella volta che sono finito in autostrada con il mio monopattino elettrico Purtroppo vorrei dire che c'è una componente di clickbait Ma non c'è non esiste è tutto vero ed è successo esattamente 9 mesi fa il 31 dicembre 2020 alle 4 di pomeriggio Io per sbaglio mi ero imbucato in un raccordo autostradale con il mio monopattino elettrico Tra l'altro piccola parentesi prima di cominciare questo video Registro questo video proprio due giorni dopo l'aver ottenuto il foglio rosa Se ho ottenuto il foglio rosa io signori lo può ottenere letteralmente chiunque Detto questo non lo mostro troppo anche perché come giustamente mi ha fatto notare mia madre Dopo che io tutto gasato sono tornato a casa col foglio rosa mi dice si ma non tirartela troppo Perché tutti i tuoi coetanei di 21 anni l'han preso 3 anni fa quindi vacci piano con la gaina Ed effettivamente per quanto questa frase mi abbia stroncato profondamente Grazie mamma Ha ragione quindi smettiamola di parlare del mio foglio rosa preso in ritardo di 3 anni E parliamo invece di come mai non avrei dovuto avere un foglio rosa Date le mie capacità di finire in autostrada con un monopattino giocattolo praticamente Io con questo mezzo mi divertivo e mi diverto tuttora con quello nuovo ad andare a fare dei giri letteralmente Cioè chi si fa i giri in moto io mi andavo a fare i giri in monopattino perché mi piace mollatemi Però dato che non ho tantissimo tempo libero io cercavo e cerco sempre di unire l'utile al dilettevole Quindi se devo andare a fare una commissione da qualche parte cerco di andarla a fare il più lontano possibile Così ne approfitto anche per fare un bel giretto in monopattino Questo pomeriggio del 31 dicembre 2020 io dal mio account di subito.it avevo messo in vendita uno smartphone android Che ovviamente non vi sto a dire qual è e una ragazza aveva visto l'annuncio mi aveva scritto E mi ha detto io te lo compro vediamoci di persona su Milano per concludere lo scambio l'accordo E lei era di Milano Rogoredo che dista da casa mia andata e ritorno più o meno sui 20 km Quindi io mi son detto dai andiamo a Milano Rogoredo in monopattino Tra l'altro io a Milano Rogoredo ci avrò messo piede sia no 2-3 volte in vita mia Quindi non è che proprio conoscessi la zona Tiro sul mio monopattino e comincio ad andare Per chi non fosse di Milano la strada per raggiungere Milano Rogoredo è semplicissima Perché bisogna imboccare la circonvallazione che è l'anello che circonda praticamente la zona non periferica di Milano È la separazione tra la Milano non periferica e la Milano periferica detto in parole povere E ad un certo punto quando si giunge in prossimità di Corso Lodi si imbocca tutto Corso Lodi e si tira dritto Il problema è che questo era il percorso tra l'altro indicatomi anche dal navigatore Che avevo sul monopattino attaccato l'iPhone che mi faceva da navigatore per le automobili Avete presente quando su Google Maps impostate un percorso e scegliete la strada per automobili a piedi o biciclette? Bene Se avete un monopattino elettrico dovete inserire la strada per biciclette ovviamente Perché altrimenti vi fa i percorsi per le auto che includono tangenziali, strade extraurbane e autostrade Ad un certo punto avevo fatto praticamente tutta la strada di andata Ero quasi arrivato, mi mancavano due o tre chilometri per arrivare a Milano Rogoredo Inizio a notare tutta una serie di segnali e accorgimenti che lasciavano presagire che qualcosa di spiacevole sarebbe accaduto di lì a poco In ordine mi sono accorto di queste cose Mentre stavo andando a un certo punto sulla mia destra trovo il cartello Milano con la sbarra rossa Quindi quello che ti avvisa che stai uscendo da Milano E già lì mi son detto ma Milano Rogoredo è a Milano perché mi farà uscire? Perché lui voleva farmi uscire, farmi prendere l'autostrada e farmi rientrare dall'altra parte Voleva farmi fare il giro più lungo ma che ovviamente per una macchina imborcando l'autostrada sarebbe stata la strada più breve Considerando anche tra l'altro che quel tratto lì non è a casello Perché tu entri direttamente e poi sei libero di uscire alla peggio il casello se lo devi pagare lo paghi a seconda di dove esci Ma l'entrata è libera Tant'è che infatti poco dopo, dopo il cartello Milano che mi ha lasciato un po' insospettito ma ho tirato dritto Un altro segnale poco piacevole è stato vedere un guardrail enorme sulla mia destra e un altro altrettanto enorme Tre corsie più in là sulla sinistra E già lì avrei dovuto comprendere che non era il caso di proseguire Ma dalla mappa mi diceva che mancava un chilometro e mezzo Ho tirato dritto Poi all'unisono succedono queste altre due cose Mi passa accanto un camion Signori è stato il camion più grosso che abbiamo visto in vita mia Ma non perché fosse stato il più grosso Ma perché voi normalmente pensate quando siete in macchina e vi passa accanto un camion Voi comunque siete rialzati Quindi arrivate comunque a una certa altezza del camion Se voi invece siete in piedi su un monopattino Voi ad un camion ci arrivate alle ruote Io guardando alla sinistra che c'avevo il camion Tra l'altro nella stessa corsia Adesso vi spiego come mai Io vedevo la fine delle ruote Io ero alto quanto una ruota di un camion E questo bestione mi passa a tanto così Allora mentre passa il camion alzo lo sguardo E vedo un cartello verde gigantesco Con scritto non mi ricordo se Venezia o Bologna Però era una città molto lontana Cartello verde con scritto tira dritto e lì mi sono detto Ok sono in autostrada Panico più totale perché tra l'altro era il 31 dicembre Stava nevicando e nella corsia di emergenza Che era quella che in teoria avrei dovuto imboccare Ovviamente perché un monopattino in autostrada È un'emergenza C'era la neve Ora non c'era abbastanza neve per la ruota di una macchina La ruota di una macchina ci avrebbe passato su senza problemi Ma per il ruotino di quel monopattino Che era la metà delle ruote di quello che ho adesso Assolutamente andare nella corsia di emergenza Con quei cumuli di neve era più pericoloso Perché se le ruote avessero preso un cumulo di neve E io fossi caduto Era morte certa Quindi mi sono detto analizziamo le possibilità Il tutto mentre andavo Tornare indietro era impossibile Perché c'era il guardrail L'avrei dovuto in ogni caso attraversare le tre corsie dell'autostrada E lanciare il monopattino al di là della galera Follia Chiamare qualcuno Sì ma cosa gli dici Cosa gli devi dire Papà guarda Sono finito in autostrada in monopattino Non è che puoi venire a recuperarmi Non fa Non faceva molto Non si poteva fare Ho detto Car***o Io qua devo continuare Cioè non ho letteralmente altra scelta Se non quella di continuare Nella corsia principale E io cercavo proprio di fare l'equilibrista No è di stare perfettamente parallelo Sopra la linea bianca Dell'ultima corsia Quella continua della corsia di emergenza E io in tutto ciò non ero tranquillo Cioè non era una figata Io mi stavo c***o addosso E pregavo che quest'incubo finisse il prima possibile Perché ogni macchina che mi superava Era un Questa macchina mi ha graziato Chissà quella dopo si mi prende E' stata veramente un'esperienza bruttissima ragazzi Che infatti racconto un po' a fatica Tra l'altro Tutte le persone che mi sorpassavano Mi stavano facendo tutto il video Cioè io non solo vedevo Da alcune macchine che mi sorpassavano La gente col cellulare così Che mi riprendeva Ma ovviamente siccome mi sorpassavano tutte Perché io andavo a 25 Poi a un certo punto La gente quando mi superava Con l'iPhone faceva così Perché ovviamente doveva seguirmi no? E io ho detto Vabbè in più mi stanno facendo il video Io già in quel momento Mi immaginavo Tutte le peggiori cose Che sarebbero potute accadere Me le immaginavo tutte In un colpo solo Fatto sta che comunque Per grazia del fatto Io continuo Mancava poco Io sarei dovuto uscire Finalmente Sarei ritornato nelle strade normali A Milano-Rogoredo Quindi ero quasi Alla fine Quasi contento no? Perché dico Beh L'ho fatto una cazzata Epocale Però ne sto per uscire A un certo punto Mi guardo sulla sinistra Ero ancora in autostrada E vedo una volante Dei carabinieri Sfrecciare Accanto a me Con la sirena spiegata Che mi gridano Una cosa del tipo Fermiti Fermati Accosta Accosta immediatamente Relativamente Tranquillo Non nel senso Che ero tranquillo Di mio di animo Ma che in quel momento Essere fermato Dalle pattuglie Era l'ultimo Dei miei problemi Io gli faccio Guarda che io vorrei Fermarmi Ma come Allora loro si parcheggiano Dietro di me Bloccando la corsia Lenta Diciamo A quel punto Io fermo il monopattino Ovviamente loro mi dicono Caricali in macchina E vieni con noi Andiamo a farci un giro E io gli dico Però aprite il bagagliaio Perché il monopattino È pieno di fango Guardate che se ve lo carico in macchina Vi infango la macchina No non c'è tempo Non c'è tempo Caricali in macchina Mettilo dietro Mettilo dietro Mettilo dietro Io li avevo avvertiti L'ho messo dietro Tra l'altro Veramente Era una Fiat Con i sedili Rossi Velluto Proprio nuova La mad Era una bella da dio Boom Infangata tutta C'è proprio il monopattino Pieno di neve di fango Sbattuto sui sedili Tutta piena di fango E a me La situazione A quel punto Mi sembrava veramente surreale Paradossalmente Io sulla macchina Mi sentivo al sicuro Cioè ho detto Basta È finita Tanto non ho fatto Niente di male Più o meno Almeno sono Su una macchina Capace di andare In autostrada In autostrada Quindi mentre io Riflettevo su che piega Avesse preso la giornata Perché comunque Alle 4 del pomeriggio Essere caricati Da una macchina Di carabinieri In autostrada Allo monopattino Non era proprio Come mi sarei aspettato Che si svolgessero I fatti Quel giorno Mentre io realizzavo Tutto ciò Ovviamente i due Bro davanti Cominciano a Fare domande Cominciano a dire Ma che c***o ci facevi In autostrada In monopattino Cosa stai facendo Sei ubriaco Dopo io gli ho fatto vedere Anche lo smartphone Che dovevo andare a vendere A Milano Rogoredo In tutto ciò La tipa mi stava aspettando Alla fermata di Rogoredo Direte voi Perché c***o Non sei andato con la metro Perché no? Cioè che io Dovesse andare lì Per vendere uno smartphone Ci hanno creduto E non ci hanno creduto Perché effettivamente Uno di due mi fa Però è un po' strano Che tu il 31 dicembre In pre-capodanno Stai andando a Rogoredo Per vendere uno smartphone Va bene Allora noi ti accompagniamo Sul posto Però vogliamo assistere A questo scambio Va bene A fare fatto Allora usciamo dall'autostrada Tra l'altro In tutto ciò Loro dopo essere usciti Ci rientrano Per sbaglio Perché se voi sapete Com'è quell'incrocio di strade Ragazzi Lì veramente sbagliare È un attimo Cioè io non condannerei Nessuno Che in quel punto Entra in autostrada Per errore Perché è davvero facile Quindi riusciamo Una seconda volta Finalmente giungiamo A questa c***o Di Milano Rogoredo Immaginatevi la scena In tutto ciò Io mi stavo scrivendo Con la tipa Le dico guarda Aspettami lì alla fermata Arriviamo alla fermata Della metro La tipa Vede me Scendere da una volante Dei carabinieri Ovviamente i carabinieri Nel mentre mi prendono Il documento Per evitare che scappassi Non so tra l'altro Come potevano pensare Che io scappassi a piedi Con la macchina dietro Che mi seguiva Scambio sto c***o Di telefono Con i soldi Ritorno Alla macchina Dei caramba E vedo che Stavano scrivendo Su un foglio Dico adesso mi scopano E gli faccio Maresciallo Cosa stiamo scrivendo lì E no Allora devo dire Perché quando è giusto È giusto dirlo E potrebbe essere L'unica e ultima volta Che mi sentirete dire Queste parole Sono stati bravi Non si può dire l'opposto Cioè c'erano mille motivi E mille modi In cui avrebbero potuto Farmi mille problemi E mille c***i E invece Semplicemente mi hanno detto Guarda Si vede che ci sei andato Per sbaglio Stai attento Alla prossima volta Per questa volta Morale della favola Ti graziamo Ad ogni modo Tutto è bene Quel che finisce bene Io Questa avventura La racconto Ai miei amici Quando sono Magari In una situazione Scherzosa Al bar Per far ridere Perché oggettivamente Fa ridere A tutti voi In generale A persone che non conosco Questa storia Serve da monito Nel senso che io Dopo volevo Comunque recuperare Qualche video Che mi avevano fatto E quindi ho iniziato A cercare Dappertutto Su welcome to favelas Telegram Di Milano Instagram Pagine meme Ho cercato su internet Coglione con un monopattino In un'autostrada Non sono apparso io Incredibilmente Il mio video Non è girato Da nessuna parte E anzi Se qualcuno ce l'ha Mandatemelo Però ho trovato In compenso Tra virgolette Video di tante altre persone Che in autostrada Non ci sono finite Per errore Come me Ci sono finite Apposta Con i monopattini Truccati Quando ho visto Tutti questi video Posto che Vedere un video Di un monopattino Truccato Che va a 90 all'ora E in autostrada Sorpassa Una macchina È una cosa Aghiacciante Oltre che illegale Lasciando perdere L'aspetto legale Ma è una cosa Aghiacciante E questa è stata La prima cosa Che mi ha sorpreso Forse lì ho capito Come mai A me non hanno Abusato troppo Perché ero Probabilmente l'unico Che ci finiva Per sbaglio Ma a parte questo Ho visto un'altra serie Di video Che forse Mi hanno preoccupato Ancora di più Perché io poi Che cosa ho fatto Per cercare di trovare Il mio video Tra l'altro Appunto era capodanno Quindi tutto il web Era intasato di video Di capodanno Io cercavo su youtube Monopattino Soltanto monopattino E con il filtro Ricerca Cercavo i video Più nuovi Quelli usciti Un'ora fa Due ore fa Quelli con zero Visualizzazioni nuovi Ovviamente non ho trovato Video Perché ho detto È appena successo Se uno lo carica Lo vedo subito E non ho trovato Quel video lì Ma ho trovato Tanti video Di bambini Cioè Bambini Che facevano Il video unboxing Del loro nuovo monopattino Regalato dai genitori Presumo E mi son detto C***o ma Se uno come me Che sono un col***e Perché c'è poco da dire Ma se io In un anno Stavo per morirci Due volte Per disattenzioni mie Perché entrambe le volte Sono state disattenzioni mie Non è colpa del mezzo Questo ci tengo a specificarlo Il monopattino è un mezzo Oddio Definirlo sicuro Mi sembra un po' Eccessivo Io mi diverto da matti Andarci Diciamo che se Rispetti le norme di sicurezza E se guidi con la testa Non è così tanto pericoloso Come la gente pensa Però comunque Ha la sua componente di pericolo Però io mi dico Ma un bambino di dieci anni Ok che magari I genitori Non lo fanno andare in strada Spero Cioè il minimo Ma non mi sembra Era proprio il regalo Adatto Per un ragazzo Per un bambino Perché è un bambino Di nove anni Di dieci anni E io lì Mi ricordo Che quando ho iniziato A vedere tutti questi video Di questi bambini Che spacchettavano Sti monopattini più grossi Di loro E facevano il test drive Magari nella stradina Sotto casa Io ho detto Qua prima o poi Succede qualcosa di brutto Cioè prima o poi Uno di questi finirà male Ma detto a malincuore Ovviamente E infatti Pochi mesi dopo Abbiamo iniziato a vedere Degli articoli Di persone Molto giovani Di 12 13 14 anni Che prendendo in prestito Il monopattino Dell'amico Cosicola Si sono schiantati E sono finiti Molto molto male Così come potevo finire male io Cioè Non mi pongo Ad un livello superiore Di queste persone Semplicemente Sfrutto l'occasione Già che ormai Devo raccontare questa storia Perché l'ho raccontata A zona rossa Almeno cerco di raccontarla Con annesso Un monito Una morale Tra l'altro Andare in autostrada In monopattino Cioè non è neanche Giocare con la vita È proprio giocare con la morte È diverso Cioè il discorso da fare lì Non è Se mi va male Sono morto È Se mi va bene Esco vivo di qua E a me è andata Molto bene E soprattutto Su google maps Attenzione Sempre a impostare la strada Per le biciclette E non per le macchine Detto questo ragazzi Questa era la mia Primissima disavventura In monopattino Questo monopattino Di sfighe Ne ha passate Tantissime E infatti Non funziona più È rotto Ed è stato sostituito Con il suo fratello maggiore Che per il momento Adesso non la voglio gufare Mi sto toccando una cosa Che non si può dire Il G30 Max È perfetto Non ha preso botte No una volta sola Stavo volando giù Da un gradino Però io mi sono lanciato In tempo Il monopattino È andato affan Però io sono atterrato In piedi regolarmente Io ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Perché ammettiamolo Sicuramente Qualcuno di voi adesso Mi starà prendendo Per il culo E fa bene Però spero anche Che vi sia servito Da monito Che vi abbia insomma Illuminato Su quanto si possa Rischiare in un attimo Sulle strade Soprattutto con mezzi Così dinamici Se comunque questo video Vi è stato utile O vi è piaciuto Fatelo sapere Lasciando un bel pollice in su Che mi renderebbe Veramente felice Seguitemi su tutti I miei social network Come sempre il link Ve lo lascio qua sotto Giù in descrizione Cliccando qui i lati Potete raggiungere Altri miei due video E invece cliccando qui al centro Vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo In un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.